Ehi! Chi non salta non lo salva! Ehi! Ehi! Chi non salta non lo salva! Ehi! Ehi! Arrivo qua nella città più bella del mondo e vedo spazzatura per terra, fa veramente schifo, una capitale fra le più importanti al mondo. Questo mi fa arrabbiare, mi fa arrabbiare che nessuno se ne stia occupando e dobbiamo scendere in piazza per far svegliare le persone. Trasporti che non funzionano in questa città, Roma è veramente lo specchio dell'Italia, questo mi fa veramente arrabbiare. Mi fa arrabbiare che Venezia, un'altra perla italiana, stia affogando sotto l'acqua e sembra che sia colpa solamente del maltempo, mentre invece il cambiamento climatico è il vero responsabile. Il Black Friday è proprio un simbolo di questo consumismo, ovvero è una corsa al prodotto più conveniente. E noi siamo qui anche per dire basta a questo, perché nonostante il consumo consapevole non è tutto, perché in realtà il problema sono le aziende che producono e non solo il consumatore che consuma, anche noi dobbiamo avere una presa di coscienza e insieme se iniziamo a farci sentire, se iniziamo a dire basta, forse un cambiamento è possibile. Ci sono degli eventi, dei fenomeni atmosferici che stanno avvenendo in maniera comunque catastrofica e ce ne dobbiamo rendere conto, dobbiamo prendere consapevolezza di questo ed essere coscienti che questi fenomeni sono destinati ad aumentare ed accrescere di pericolosità se non facciamo qualcosa per prevenirli. Quindi in particolare dovremmo assolutamente come prima cosa ridurre le emissioni e il governo deve prendersi l'incarico di mantenere questa posizione.